Per quanto riguarda le velocità, non sto a farvi tutti i passaggi che trovate su questo file, però cos'è una velocità? È il rapporto fra lo spostamento, cioè la variazione di posizione e il tempo. Quindi se facciamo due passaggi matematici per usare le trasformazioni di Galileo e ricavare lo spostamento misurato dal sistema O, come legato allo spostamento dal sistema O, troviamo questa semplice relazione. Dividendo per il tempo, ottenete questa relazione importantissima che riguarda le velocità. Allora intanto, siccome abbiamo chiamato V la velocità di trascinamento, cioè di un osservatore rispetto all'altro, dobbiamo dare una lettera diversa alle velocità e il nostro libro userà, quando parleremo di relatività, la lettera U. Quindi U che cosa è? È la velocità del punto P vista dall'osservatore O. U' è la velocità del punto P vista dall'altro osservatore, chiamiamolo quello mobile. E queste due sono legate da questa relazione. Allora facciamo un esempio molto concreto per capirci. Supponiamo che chi si sta studiando sia un passeggero sul treno, ma non che è fermo, che sta camminando sul treno. Immaginiamo stia camminando sul treno alla velocità di 10 metri al secondo. Rispetto a chi, secondo voi, ho dato questo valore? Sì, rispetto al treno. Cioè io dico, sto camminando sul treno alla velocità di 10 metri al secondo. Quindi 10 metri al secondo, che sono tanto, 1 metro al secondo, rispetto al treno. Quindi è la velocità di quella persona giudicata da chi si trova sul treno, cioè quello che noi chiamiamo U' Primo. Uno che sta fuori e che vede il treno passare, con la persona che cammina sul treno, vede il treno che si muove a una certa velocità, datemi voi un valore che vada bene, 30 metri al secondo. Qual è la velocità della persona che si trova sul treno secondo chi è a terra, cioè secondo chi misura la velocità U? Quindi chi vede le cose da fuori le vede con una velocità che è la somma delle due, quindi 31. Quindi semplicemente questa relazione, che è importantissima, collega le velocità dal punto di vista dei due sistemi di riferimento. E ditemi un po', se invece la persona si muovesse a meno 1 metro al secondo rispetto al treno, e se si muovesse a 30 metro al secondo in direzione contraria al treno, lo vedrebbe fermo, perché mentre il treno va avanti con una certa velocità, quello ripercorre il treno con la stessa velocità, per me che vedo tutto da fuori, quella persona è ferma. Un po' come quelle situazioni che si vedono ogni tanto in certi filmati dove c'è gente che risale le scale mobili, anziché usarle per scendere. La scala mobile scende, tu la risale alla stessa velocità rispetto a chi è fuori e sta fermo. Oppure chi si allena sui tapis roulant in casa, la sua velocità è un certo valore rispetto al tappeto, ma il tappeto gira dall'altra parte con la stessa velocità rispetto alla casa, tu sei fermo. Va bene questo ragionamento? A posto? Allora, un esempio solo concreto per farvi vedere come queste cose noi le abbiamo sempre osservate nella nostra vita. Immaginiamo di avere una situazione in cui c'è la pioggia che sta cadendo e la pioggia sta cadendo verso il basso con una velocità di, che ne so, facciamo 10 metri al secondo. In questo momento quando dico sta cadendo verso il basso, in che osservatore mi sono immedesimato? Chi è fermo a terra, giusto? Quindi l'osservatore che mi ha chiamato finora O. Dunque, se lui dice che la pioggia cade verso il basso a 10 metri al secondo, quel 10 metri al secondo che cosa è? U oppure U'? Perché U è la velocità di un oggetto, la pioggia, vista nel sistema di riferimento fermo. A posto? Adesso ci mettiamo in macchina e ci muoviamo verso destra, ad esempio, con una velocità V. Diciamo 5 metri al secondo. La domanda che vi faccio è, chi si trova in macchina? Quindi l'osservatore O primo. Che velocità attribuisce alla pioggia e in che modo cade per lui la pioggia? Quindi quello che io vi ho chiesto è quanto vale O primo. Va bene? In tutti questi problemi è sempre lì la difficoltà capire quali sono gli osservatori e qual è l'oggetto studiato. In questo caso gli osservatori sono due. Uno fermo che vede la pioggia cadere secondo lui con questa velocità. L'altro in moto che si sta muovendo a destra con questa velocità rispetto a chi è fermo. Questa è la velocità di trascinamento. E la domanda che mi sono fatto è come vede l'osservatore mobile la pioggia che è l'oggetto che tutti e due stanno misurando. Allora in questo ricorriamo le trasformazioni di Galileo per le velocità. Noi sappiamo che U, cioè la velocità vista da chi è fisso, è uguale a U primo, la velocità della pioggia vista da chi è in moto, più v, cioè la velocità di trascinamento, che è la velocità che l'osservatore fisso attribuisce a chi è in moto. Noi però volevamo U primo, quindi dobbiamo fare U primo uguale U meno V. E quindi vuol dire dal punto di vista dei vettori fare U meno V, cioè andare a prendere il vettore U, che era questo, e poi devo sommarlo con il vettore, quale vettore devo sommargli? Meno V. Ok? Fare un'operazione fra vettori, una somma fra vettori vuol dire usare il metodo punta coda. Quindi disegno il primo U, sulla punta del primo metto l'altro meno V. E il risultato di questa operazione sarà un vettore che parte dalla coda e arriva sulla punta dell'ultimo. E questo vettore sarà U primo. Chi è in macchina vede la pioggia non verticale, ma cadergli, venirgli incontro. Infatti tutti abbiamo l'esperienza che sui finestrini si vede la pioggia in diagonale e più si va veloce più l'angolo è elevato. E potrei anche al limite calcolare quest'angolo, ad esempio questo potrei dire che la tangente di teta è uguale al modulo del vettore V diviso il modulo del vettore U. Quindi potrei anche calcolarmi proprio qual è l'angolo che si viene a formare. Ed è ovvio che più V è lungo, più questo vettore risulta inclinato, più l'angolo teta risulta grande.